Avevo la sensazione che qualcosa non andava, verificavo sempre il comportamento della signora ma non mi sono immaginato che c'era una terza che in un attimo è entrata dentro e ha ripulito tutto. Un furto con destrezza messo a segno in pieno giorno e seguendo una copione da veri e propri attori in appena 27 secondi come testimoniato dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza. A metterlo a segno una gang di sudamericani che è riuscita a portare via qualche migliaio di euro. È successo in via Trasimeno nel quartiere di Saione, uno dei più popolosi di Arezzo. Qui sono entrati in scena due uomini e una donna scappati poi con il contenuto della cassa e quello del portafogli del tabaccaio. Entra successivamente una seconda persona che voleva acquistare sei pacchetti di sigarette. Mi ha pagato i 30 euro del valore di queste sigarette consegnandomene a cartocciate. Quando le ridepositavo nel cassetto mi sono accorto che i 20 euro ne mancava metà. Chiamando la persona che nel frattempo era uscita, anche la signora con me viene a cercare di chiamare la persona. Ma nel frattempo è entrata una terza persona, io questo poi l'ho appurato visionando le telecamere con le forze dell'ordine. La terza persona in 25 secondi è entrata dietro, ha ruotato completamente la cassa, il mio portafogli. E uscendo ha fatto un cenno alla signora che era lì nell'angolo a fare il palo e come per dire è andata. Poi è anche lei infatti ha iniziato a incamminarsi in giù. Ne è così nato un inseguimento. Ho rincorso la signora che stava andando in macchina laggiù a 200 metri davanti all'asilo. Quando sono arrivato la signora era appena montata a macchina. Ho provato a aprire lo sportello ma sono partiti, la macchina è partita di corsa. Ho preso la targa, ci sono le immagini delle telecamere ma c'è tanta amarezza. Non è la prima volta che questo tabacchi finisce nel mirino dei ladri che in alcuni casi sono riusciti ad entrare in piena notte. Cinque infatti in tutti i colpi messi a segno negli anni, tanta adesso l'esasperazione. Ci si rimane molto male, non ci si dorme la notte, ci si sveglia, si rimugina, c'è tanta amarezza, c'è tanta dispiacere, disperazione. Grazie.